La Porta d'Acqua, ristorante a Venezia con vista sul Canal Grande Benvenuti in questo nuovo video in cui andremo a visitare un ristorante che conosce molto bene il mio caro amico Camillo. Ero curioso perché ne ha sempre parlato molto bene. L'occasione l'abbiamo avuta per il compleanno di Alvise. La Porta d'Acqua è a San Polo, in riva del Vim, vicino al ponte di Rialto. Per cui ci siamo trovati con la vecchia guardia composta da Alvise, Leo e Camillo nel vicino campo San Giacometto per lo sprizzo di rito. Essendoci due posti da scegliere, uno pieno di gente e l'altro vuoto, abbiamo scelto il secondo. Non fatelo, c'erano degli ottimi motivi per cui non andava nessuno. Bevuto lo sprizzetto ci siamo diretti verso il ristorante, che come dicevo prima è in riva del Vim, a pochi passi da Rialto. Dopo aver passato tutti i ristorantini turistici in riva, siamo arrivati alla meta. D'estate, con i taveli all'aperto, si può mangiare con una bellissima vista sul Calangrande. Da qui si vede anche il ponte di Rialto, oppure le varie processioni delle gondole. Ma visto la serata, che comunque faceva freddo e pioveva, ci siamo diretti verso l'interno. Dopo un bancone molto grande, si entra in una stanza molto ampia con un bellissimo lampadario e una serie di ampie vetrate, da cui si può ammirare il panorama esterno. La stanza è molto illuminata e ha diversi tavoli. Sulle pareti ci sono vari quadri. Una volta seduti ci hanno portato il menù, che viene illustrato tramite un tablet. Una novità, l'unico altro posto dove puoi ordinare il mangiare da un tablet è stato un ristorante cinese al You Can Eat. Ma è comodo? Nel tablet è tutto molto più chiaro. Ci sono molte più informazioni, i vari ingredienti e le foto dei piatti. Per quanto mi riguarda è una buona soluzione. Camillo ci diceva che sono molto buoni sia gli antipasti che i primi. Varie le scelte. Per quanto riguarda gli antipasti abbiamo una degustazione dei 5 cicchetti, buratta di prosciutto crudo di Parma con crostone e pomodorini, tartare di carne di fastona con salse varie o tartare di pesce crudo, catalana di scampi e gamberetti con chips di verdure, zuppetta di cozze o canestrelli gratinati. Difficile la scelta. Per quanto riguarda i primi, di cui io vado ghiotto, linguine, aglio e olio e peperoncino su crema di cozze, ravioli a ripieno di branzino, spaghetti caccepepe con tartare di gamberi e polveri di caffè, spaghetti alle vongole, pacari alla granseola, rigatori alla carbonara di mare e altri ancora. Passando dal pesce alla carne, con ricette molto particolari e, devo dire, tutte da assaggiare. Noi ci siamo fermati a un antipasto e un primo a testa, comunque anche i secondi avevano una buona scelta, dal pescato del giorno alla frittura mista, dal brasato di manzo con polenta alla tagliata di tonne in crosta, calamari di pieni con i friarielli, al filetto di manzo a scelta, o al gorgonzola o al pepe verde. Per la prossima volta sicuramente assaggeremo anche questi. Di seguito vi metto sia i contorni che i dessert, che purtroppo eravamo troppo in hype per i primi e gli antipasti, per cui non li abbiamo neanche guardati, ho fatto solo le riprese così. Oh, alviso se paghi tu veniamo anche domani. Noi abbiamo preso come antipasto tre degustazioni di cinque cicchetti per i miei colleghi, consigliata da Camillo, molto buona, e io una tartare di carne alla fassona, che era veramente troppa. Ero già sazio a fine antipasto. Per i primi abbiamo spaziato tra la carbonara di pesce per Leo, la caccia e pepe con tartare di gambaretti per Alvise, i ravioli al branzillo per Camillo e i bigoli alla nera anese per me. Piatti abbondanti e molto buoni, il migliore di tutti, la caccia e pepe. Vi lascio alle immagini dei piatti e noi ci risentiamo alle considerazioni finali per quanto riguarda il conto. Questi sono alcuni quadri che erano tutti intorno alla stanza. e quindi dipende sempre da quanti soldi ti fai girare. ovviamente sono più differenze. Va bene, 1500 all'anno no. se no, è un po' per pieno. Quindi alla fine gli fai di piccoli. Devo dire che non è che hanno fatto qualche... Questa è caccia e pepe, però di soli materi che tu fatti in casa a studiare e non serve, ti ricordi. Potevo non visitare il bagno? Ebbene, ho fatto un giretto. Come potete vedere, sulla norma ci sono alcune fotografie sulle porte. Considerazioni finali per quanto riguarda il conto siamo sopra la media. Abbiamo speso 270 euro con uno sconto di 26 euro dovuto al fatto che Camillo frequentava spesso il locale. Abbiamo preso 4 antipasti, una bottiglia di vino Valpolicella e 4 primi per 75 euro più o meno a testa. Siamo a Venezia, in pieno centro storico ed è un locale col vista sul Canal Grande. Il servizio era ottimo e i piatti, devo dire, tutti molto particolari e buoni. Un prezzo esagerato? Non saprei. Altre volte abbiamo speso anche di più. Io comunque tornerei per assaggiare gli altri piatti, magari i secondi e i dessert. Fatemi sapere cosa ne pensate e se vi sono piaciuti i piatti. Noi comunque ci sentiamo, sicuramente, forse, chissà, al prossimo video. Ah, dimenticavo, alla fine ha pagato Alvise. Buon compleanno Alvise! Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più, sulla descrizione, ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale, c'è anche il mio link di Paypal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! 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 Iscriviti!